La linea di rigore, va l'uno contro uno, poi la alza per Ibra, che non può sbagliare, e fa 10 in campionato, e fa 2 a 0 per il Milan, ancora super Zlatan Ibrahimovic. Cosa ti dicevo però della società Ibrahimovic-Rebic? 23. La partenza nello spazio, il Napoli ripiega, non così bene, Rebic è bravo a tergiversare, quando Napoli sbaglia un'opportunità, e Rebic attacca lo spazio, la palla è giusta di Cialanoglu che lo fa correre, e poi ha questa intuizione nel frenarsi, andare sopra col destro, metterla bella, e lui con il ginocchio fa gol. Ma lui non lo può proprio fronteggiare fisicamente Ibrahimovic, gran palla di...